Vai, avvicinati il Phantom Prendi un cubo Però prendi uno solo Ma vai, sposa, adesso dolcemente interagisci con un singolo cubo e fai vedere che si deforma un po' Da sopra Vai Ok Sì, perfetto, alza il cubo, che sto facendo i primi piani proprio sul cubo Oh, prova a strizzarlo Allora, qua ti lascio il portato, mi portatevi il portato Sì Vai, vai a destra Ovviamente non lo mettere sotto Non lo mettere sotto che lo riempi Vai, continua a andare a destra Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti